Non ti piacciono i cismollici d'acqua? Come il Mosa. Come i vecchi tempi, eh? Già. Ma a che ti riferisci? Ehi, aspetta. Qua non va. Da qualche parte abbiamo sbagliato strada. Ehi, scommetti che porta direttamente alla stanza delle caldaie. E da lì penetriamo. Vai a casaccio, ok? Come? A caso. Cioè? Dammi una spinta. Eccoci qua. Grazie. Ci siamo quasi. Pronto? Pronto a tutto. Andiamo. Siamo salvi. Siamo salvi. Arrivati su e afferra la scala. Ok, ok. Sì. Ok, lanciata. È tutta tua. Ci siamo. Di qua si arriva al cortile. Ok, ora ci siamo. Beh, di qui non si passa Almeno se ci tieni alla pelle Ok, da qualche parte c'è una valvola di spegnimento Allora vedi di trovarla Sei un mago Allora vedi di trovarla Allora vedi di trovarla Ok, ci deve essere una porta proprio dietro l'angolo Noi entriamo da lì Una volta dentro attieniti al piano, ok? Non ti mancava tutto questo? Sono qui, no? Iscrivamo da l'inforza Chiusa a chiave Per fortuna sono previdente Arsenio Lupin era mio nonno, lo sapevi? Aspetta C'è un allarme L'ultima volta non c'era Grande, e adesso? Beh, posso disattivarlo se troviamo la centralina Deve essere qui da qualche parte Bene, dovremmo esserci Ok, ci siamo Merda Quella mia Grazie Grazie Ecco la torre Già, ma possiamo arrivarci solo dal tetto E da qui non si arriva al tetto Dovremmo superare il prossimo cortile Dopo quel cancello Beh, andiamo Chiusa 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 dobbiamo arrivare su quel balcone qui possiamo salire sul cancello ok il 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 a l se spett st le bici siamo quasi Io a destra, tu a sinistra. Buonanotte. 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 Bize kapalı. Sonyi dağrı. Grazie. Ok, dovremmo riuscire a sollevarlo e passarci sotto. Non correre! C'è un altro allarme! Grandioso. Te ne occupi tu. Aspetta qui. Ok, disattivato. Ok. Uno. Due. Tre. Vai! Ci sei! In fretta. Ok, ok. Bene. Muoviti. Piano. Piano. Ok, dobbiamo attraversare il cortile per arrivare sul tetto. Ok, questa volta il lavoro sporco lo faccio fare a te. Andate. Verso la fontana. Un po' di più. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. 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 Grazie. Grazie. Dormi, dormi. Ora ci basta solo arrivare a quella finestra. Quale finestra? Sai, è che ce ne sono un bel po'. Merda. E adesso? Sembra sia arrivato il momento di giocare al nostro jolly. Che bravo. Pistole. Cosa credi di... Rilassati, Gandhi. Sono solo pistole tranquillanti, assolutamente non letali. La tua coscienza resterà immacolata. Oh, beh. Buona idea. Bene. Ok, c'è un'altra cosa. Questi affari hanno gittata corta, dobbiamo avvicinarci di più. Tutto chiaro? No. Cosa usare una pistola, genio. Bene. Bene. Ok, stendiamo qui, Jeffy. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Buona chair tripki. Si, cominciamo. Buona chair. Buona chair. Buona chair. Può farci comodo? Ok, per avere delle ruote è bello pesante. Ok, forse ci siamo. Ci servirebbe un bel cavallo. Quelle travi ci porteranno sul tetto, se riusciamo ad arrivarci. Per fortuna uno di noi è previdente. Ok. Vai pure! Ehi! E là, ricorre! Grazie, amico. No. 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 Muoviti Ok, ok, vengo La prossima volta prendo l'ascensore La prossima volta prendo l'ascensore La prossima volta prendo l'ascensore Ci siamo, ecco la torre Ci avviciniamo Ottima osservazione, ancorché ovvia Non guardare in basso Non guardare in basso Non guardare in basso Preso Sei ingrassato, amico Oh merda, ci è mancato poco Vedi di mangiare meno ciambelle Ok, me ne occupo io Ci risiamo Salita Ti sto dietro Come sempre Allora 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 Una guardia sopra di te Una guardia Una guardia sotto di te Una guardia Allora 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 Già, bella vista Vedo anche la tua casa Muoviamoci Una guardia sotto di te Usa, da dur Ci siamo quasi Sì, ma perché le luci sono ancora accese? Ora ci pensa Claude, non preoccuparti Sì 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 No, merda Non possiamo avvicinarci finché la torre è illuminata Cosa sta facendo? Dai Claude Grande Claude Ok Via libera Prima le signore Ci siamo Oh, eccola Sì, e c'è un allarme Se non sblocchiamo la teca Quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro Niente paura, amico Voilà Ah, bene Sicuri se è quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo Scusa, Marco Merda Tonnellate, tonnellate di merda Tutto qua Ma non ci serve a niente La luce del Gran Can Aspetta un attimo Che cosa fai? È resina Brucia Quindi? Dammi il tuo accendino Credi sia una buona idea qua dentro? Forza Wow Vediamo Le nostre navi furono sospinte dalla marea Nella giungla di Java Sembra lì abbia colpiti uno tsunami Sì, sulle coste occidentali del Borneo Questo sì, che è utile Guarda Forse questo monte è il punto di riferimento più vicino alla Prodo Se troviamo il monte, troviamo le navi Già, bel lavoro, amico Aspetta, c'è altro Ok Come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo Che portavamo da Shambala La maledizione di Cintamani E che significa? Shambala Oddio, Flynn Cosa? Marco Polo trovò Shambala Shangri-La Stai scherzando? Stai scherzando? Se trasportavano la pietra a Cintamani Potrebbe essere ancora lì? Sì, tutto molto affascinante, ma ora dobbiamo andare Ok, ti seguo subito Che diavolo stai facendo? Scusa, amico Ma le nostre strade si dividono Flynn, il nostro piano? No, il tuo piano Vedi, io ne ho un altro Gettami la fune, non fare lo stupido Oh già, certo, sei tu la mente Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio Giusto, amico? Che vuoi fare ora? Sparami? No, voglio solo toglierti di mezzo per un po' Merda Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito Flynn, ascolta Rassegnati, genio Ti ho fregato Ah, ah, non ancora Voglio dare un po' di vantaggio alle guardie Ok, ora devo andare Senza rancore, ok? Dannazione, Flynn No, 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 no Ok, ora sono fottuto Calma, calma Pensa Nate, pensa Versace Sì, ci siamo Sì, di qua, di qua Ok, usa la testa, Nate, usa la testa Come diavolo faccia uscire da qui? O buradà O yöne kaçtı Così, vai così O buradà Deve arrivare alla scala A dire idioti Ondurrme Hai sottovalutato un piccolo dettaglio, vero, amico? Cosa? Ammettilo, genio, sei stato fregato. Ah, davvero? Ehi, ehi, ehi! Idiota, stai rovinando lo spettacolo. Oh, che peccato. Sully! Non posso lasciarti solo un minuto? Oh, Sully, è bello vederti. Come va, amico? Sto proprio una meraviglia. Du. Dovevo ungere qualche ruota. Ho usato il resto dei tuoi soldi e un po' dei miei, ma... Ehi! Come puzzi! Sì, ma mai come il tuo sigaro. Come mi hai trovato? Beh, una tua amica si è rivolta a me. Ciao, Nate. Oh, no, no. Un minuto. Sully, buttala fuori e chiudi la porta, sarà più sicuro qui. Aspetta un minuto, ti ho detto. Ascoltala. Grazie, Victor. Senza offesa, Sully. Ma tu non sei proprio il tipo giusto per giudicare. Specialmente se sono donne. Hai ragione. Comunque. Santo cielo. Oh, no, non è così male. Guarda, ho una tazza tutta per me. Nell'ultima cella ne usavamo una in otto. Ascolta, Nate. Guarda che io apprezzo molto la tua visitina. Ma se tu e Flynn non mi aveste fregato come avete fatto... Eh, aspetta un attimo. ...io non sarei stato qui a marcire in questo buco per tre mesi. Ascolta, Nate. Quindi scusami se adesso... Se non volo tra le tue braccia. Io non c'entro affatto. Certo. Te l'ho detto. Non mi vuole ascoltare. Basta, Nate. Hanno trovato le navi. Nel Borneo? Sì. E la pietra cintamani? E tu cosa ne sai? Credevi davvero che Flynn potesse cavarsela da solo? D'accordo, hai ragione. No, loro non l'hanno ancora trovata. Chi sono loro? Flynn e il suo cliente. Lanzarevi. Hai presente lo svitato? Hanno lavorato insieme tutto il tempo. E va bene. Se non hanno trovato la pietra, allora c'è ancora tempo. Devi portarci al luogo degli scavi. E gli freghiamo il tesoro proprio sotto il naso. Non se ne accorgeranno. Sì, la mia vendetta è dolce. Guarda, la chiamano la gemma dei desideri. È un oggetto sacro. Come un santo graal buddista? Esatto. Grazie. Sally, senti un po' qui. Nel regno di Shambhala si trova la cosa più preziosa che esiste in tutto il mondo. Un perfetto zaffero grezzo di un intenso blu. Così grande che un uomo non riuscirebbe a cingerlo con le braccia. Oh, deve proprio valere milioni. Centinaia di milioni. E ce ne sono altri, così? Molti altri. L'Azzarevich ha pagato un sacco di soldi per i diari di Marco Polo. Sono anni che dà la caccia alla pietra cintamani. Beh, se fa affidamento su Flynn, non mi stupisco che non l'abbia ancora trovata. Se do un'occhiata alle carte di L'Azzarevich, posso trovare quella pietra. Non correre, cowboy. Non è così facile come sembra. Le carte sono nella sua tenda e la sua tenda è al centro dell'accampamento. È una specie di area militarizzata. Ci sono soldati ovunque. Bene. È per questo che ci serve un infiltrato. Qualcuno di cui si fidano. Oh, ok. Ho capito dove vuoi arrivare. È solo per distrarli. Dammi cinque minuti in quella tenda. È il tempo che ci vorrà. Davvero? Cinque minuti? Oh, perfetto. Non toglierò neanche la maglietta. Chloe, veramente stavo pensando a un'esplosione. Sì, anche. Sì, anche. Si può fare. Ci stai? Oh, certo che sì. Io ci stavo già prima di te. Chloe, ci ricevi? Porta è chiaro. Ci siamo quasi. Ok, ho piazzato delle cariche lungo tutto il perimetro del campo. Dovete solo innescarle. La prima dovrebbe essere proprio davanti a voi.